Ciao a tutti, oggi prepareremo i tartufini pandistelle velocissimi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono biscotti pandistelle, crema pandistelle e stelline di zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti ed azionare i bimbi per 20 secondi da velocità 6 a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la crema pandistelle ed alzionare il bimbi per 50 secondi a velocità 3. trasferire in una ciotola e riporre in frigo per 10 minuti. Tartufini pandistelle velocissimi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!